A Chiavari per la terza vittoria consecutiva, un piccolo tabù da sfatare, non accade dal campionato 2015-2016, gestione Massimo Oddo, sfida significativa dopo la splendida prestazione di Udine con il Pordenone e la sofferta vittoria con la Cosenza. Da traghettatore a predestinato? Mai banale, le grottaglie risponde così. Quando si parla di predestinato ho fatto un pochettino la battuta l'altro giorno a uno che me l'ha detto, ho detto sì sì, mi sento predestinato ma perché sono un figlio di Dio, ho detto, per quello sono un predestinato. Pesante l'assenza dello squalificato Palmiero, in rosa non c'è un sostituto naturale, sorpresa Bruno, in netto vantaggio su Castanos, il 36enne mediano di Benevento non gioca titolare dalla prima giornata, trasferta di Salerno. Le altre probabili novità nel ruolo di Mezzala, Crecco favorito su Melegoni e Clemenza, presidio della fascia Mancina, il rientro tra i titolari di Masciangelo. Ecco dunque il probabile 11, 3-5-2, Fiorillo Trepali, Bettella, Drudi e Scogna Miglio, trio di centrali di difesa. Zappa e Masciangelo sulle fasce, Memushai, Bruno e Crecco a centrocampo, davanti il tandem Galano-Maniero. È una partita difficile, una partita dove loro puntano molto sul gioco diretto, si creano vantaggi sulle seconde palle, con l'attacco diretto, quindi abbiamo bisogno di giocatori che ci coprono bene quegli spazi che loro andranno a cercarsi. Chi sostituirà Palmiero, secondo me, sarà il migliore in campo domani. Dal punto di vista tattico, affrontate una squadra che si schiera a rombo un po' come il Pordenone, bisognerà sfruttare i cambi di fronte perché lì l'Entella potrebbe soffrire? Uso il condizionale quanto mai di rigore. Sicuramente nella zona laterale e in ampiezza loro faranno un po' più fatica a coprire il campo, però non ci dimentichiamo che domani ci sarà anche l'incognita terreno di gioco, perché il terreno di gioco è un po' più piccolo rispetto al nostro o al campo di Udine. Voglio una squadra coraggiosa, questo è quello che mi preme dire e quello che vorrei che i miei giocatori domani mi facessero vedere in campo. Per contro l'Entella un solo successo nelle ultime sei partite a Cittadella lo scorso 29 dicembre. In casa non vince dalla 14 dicembre 2-0 con l'Empoli. Pescara mai battuto, finora sette sfide, tre K.O. e quattro pareggi consecutivi. Liguri privi di crimi per infortunio e Schenetti causa squalifica. Debuttano Jacopo Dezzi, abruzzese di Roseto e lo spagnolo Rodriguez. Sistema di gioco 4-3-1-2. Contini tra i pali, Coppolaro, Pellitzer, Chiosa e Sala in difesa. A centrocampo Settembrini, Lex, Andrea Paolucci e Mazzitelli. Solo a tre quarti appunto Dezzi alle spalle del tandem d'attacco, Giuseppe De Luca, Rodriguez. Il tecnico Roberto Boscaglia. Sì, è una squadra in fiducia che sta giocando un buon calcio, propositivo, un calcio anche abbastanza offensivo. Una buona squadra naturalmente, ottimi elementi, ma noi qui dobbiamo fare punti però. Noi dobbiamo cercare di vincere la partita in tutti i modi. Sappiamo che non sarà facile perché, ripeto, giochiamo contro una squadra, tra l'altro grande fiducia, ma ci aspetta una partita complicata, ma dobbiamo andare in campo con la consapevolezza che possiamo portare a casa i tre punti. Partita complicata, sarà facile, forse più difficile di Pordenone, secondo me perché troviamo un ambiente diverso. Il duello Zappa-Sala può essere uno dei motivi del match? Assolutamente sì. Uno, ma anche tutti gli altri. Se noi più duelli vinciamo in una partita, più possibilità di vincere abbiamo. Io credo nella semina e nel raccolto. Questo è un principio di vita in cui ho sempre creduto. Quindi c'è un raccolto e c'è una semina. A volte tu semini e qualcuno raccoglie. E a volte tu raccogli dove qualcuno ha seminato. Io a volte, mi è capitato nella mia carriera di seminare e qualcun altro ha raccolto il frutto della mia semina. Quindi io sono convinto di aver raccolto anche, sto raccogliendo dei frutti di un lavoro seminato da Luciano e dal suo staff in passato. Assolutamente. Dovessimo raggiungere un risultato a giugno bisogna ringraziare tutti, anche loro. Perché poi insieme abbiamo raggiunto il risultato. Quale risultato? Il massimo. Perché Galeone ha detto che bisogna puntare dritti alla Serie A. Io gli do il 5 a Galeone. Perché Galeone sa come bisogna vivere le partite e i campionati. Io non faccio niente per perdere. Io sono di quell'idea che se faccio questo è perché voglio il massimo. E il massimo alla Serie A è dove appuntare la Serie A. Se poi non ci arrivi ci riproveremo. Tra un giocatore motivato come Bocino, perché l'abbiamo ascoltato anche noi, non aspetta che una telefonata dalla club. E un altro che invece come Matri, per carità, grande giocatore, che però dice sì, io voglio rimanere in Serie A. Se non arriva la Serie A potrei prendere in considerazione l'ipotesi Pescara. C'è una bella differenza. La differenza la fa la motivazione, hai detto tu. Quindi se in effetti uno deve scegliere a parità di condizioni un giocatore, prendo quello che è più motivato. Quello che è più motivato, che è più, ripeto, che è più umile. Il campionato per noi inizia domani. Non c'è niente da fare. Ogni partita, ogni domenica, il nostro campionato inizia a Intella, a Chiavari. Domani alle 3 noi iniziamo il campionato. Per me è la prima partita che faccio. È come se il Presidente mi avesse chiamato ieri e mi avesse detto devi allenare la squadra domenica. Io la sto vivendo così.